Tragedia all'ospedale civile di Alghero. Un anziano signore ottantenne intorno alle 20.15 di lunedì si è buttato dal terzo piano del nosocomio cittadino, a dare l'allarme alcuni pazienti che hanno visto il corpo dalle finestre dell'ospedale. Inutili soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. L'ultimo suicidio al civile di Alghero risale a qualche mese fa. Era febbraio quando un signore settantotenne, alle prime ore dell'alba uscito dal reparto di oncologia, si è tolto la vita buttandosi dal primo piano.